Quattro partite e quattro vittorie, Coriano alza la voce e fa sul serio a squadra ben amalgamata che esprime un ottimo gioco e si vede la mano del suo tecnico Zagnoli che gusti il sangiovese mentre il presidente applaude la sua creatura e se magari non fosse per antipasto chiamato Ronco il pranzo sarebbe davvero completamente gradito. Pranzo che oggi viene diviso con l'ospite chiamato Ijea e proprio in Curiano parte subito all'attacco. Borghiri già in gola alla prima, a domicilio ci prende in gusto, si invuola ma Berardi risponde presente. Il portiere che gioca con una vistosa maschera al viso in forma di protezione non le manda a dire alla propria difesa. Il palio del gioco rimane in possesso dei locali che con Bria ad minaccia nuovamente la porta alla difesa da Berardi, mira da regolare. Prima sortita dell'Ijea con Bellavista che chiama Romani all'attenzione. Lo stesso Bellavista inventa per Capitani Ghini, cui tiro viene bloccato in due tempi da Romani. È una partita piacevole quella in scena allo Stadio Grandi con Della Rosa che chiama nuovamente all'attenzione Romani ma ci vuole ben altro per sorprendere l'estremo di casa. Poco dopo è il Curiano a passare dalla bandierina VK Innesca Farnetti che sale in cielo senza l'uso dell'ascensore e di testa batte Berardi per l'1-0 Tropical. Complimenti per l'attaccante in maglia numero 9 meritati. Ma l'Ijea non ci sta e Bellavista che si ricorda di avere un piedino fatato, un'angelità da giocatore che può indossare quelle scarpe che un tempo si chiamavano pantofole d'oro, trova il pareggio in questa maniera. Che dire davanti a questa meraviglia? Solo applausi e replay meritato ad opera del nostro Paolo Arcangeli. Con le immagini dalla tribuna passiamo direttamente a campo per l'inizio della ripresa che vede subito il Curiano proiettarsi in avanti nuovamente con un colpo di testa ma questa volta la firma dell'autore porta nome e cognome di Gabriele Ricci. Gol del 2-1 e la festa è compiuta. L'Ijea non ci sta, da corner scatta l'intesa tra Casadei e Mamo ma la sfera termina a lato. Alto calcio piazzato per il Curiano bloccato questa volta da Berardi senza problemi ma la formazione di casa non sentendosi sicura continua ad attaccare combinazione tra neo entrati firmata da Vitaioli e Casalino con colpo di testa di quest'ultimo terminato sopra la traversa. Forze fresche per Zagnoli ma l'Ilaie non c'entra lo specchio della porta. Termina qui una partita bella vincente tra due belle realtà del nostro territorio che giocano un calcio spregiudicato senza timore di ottenere il massimo obiettivo. Questa volta ad avere la meglio è stato il Curiano che confezione e quarto successo di fila in attrettante gare. Grazie a tutti.